Tornando alla Coppa Italia che ci sarà sabato e domenica, incontriamo il Savona, il Nervi e il Cagliari. Sarà un test importante anche perché le prime due passano alla fase successiva. Mi sembra che i ragazzi siano comunque ben pronti per affrontare anche questo primo impegno e capire un po' quello che possono essere le nostre forze in previsione di quello che è il campionato che, come ben sapete, sarà orientato per cercare di raggiungere una salvezza da conquistare sul campo. Questi sono i nostri obiettivi. Qui abbiamo la squadra al completo con l'allenatore Piccardo. È quasi riconfermata la squadra dell'anno scorso con alcuni innesti importanti. Gli cito perché sono quelli nuovi che magari non tutti conoscono. C'è l'arrivo di Marco Ielazza.